Oh buongiorno, va chi c'è, va chi c'è, va chi è tornato? Eh, pensavate di esservi liberati di me, e invece no, e invece no. C'è stato il 25 aprile, il giorno della liberazione, ecco lì non mi sono fatto vedere, però la liberazione non l'avete avuta. Un po' di novità, siamo un po' in ritardo sul mese di maggio, ma chi se ne frega concettualmente, anche perché le cose che vi racconto sapete meglio di me che le potete trovare da altre parti, in modo più preciso, più dettagliato, più professionale, più più più, ciao ciao ciao, bau bau. C'è stata a Ginevra il Watch and Wonders, cioè l'orologio di Stevie Wonder, no non c'entra niente, come sempre tante novità, continuano a fare degli orologi, non stanno mai tranquilli, la tendenza è sempre quella, i dati bene o male del mercato dell'orologeria sono abbastanza confortanti, gli svizzeri aumentano il fatturato a dismisura, Rolex non riesce più a consegnare gli orologi alle ampie liste d'attesa che ha, lo stesso vale per Patek Philippe, oramai neanche più gli orologi da donna riescono a consegnarteli gli amici della Rolex, nel senso che non è che non consegnano, anzi hanno aumentato la capacità produttiva con l'ultima fabbrica e anche in qualche modo con i contatti produttivi di Bucherer che hanno acquisito, ma il fatto è che la lista è lunga, è lunga, è lunga, se vuoi comprare Patek, Rolex, compagnia cantante, pam pam pam, li paghi il doppio. Ho in questa occasione un po' di orologini nuovi, target medio alto, mi spiace, poi se parlo dei cinesi non va bene, se parlo degli svizzeri non va bene perché costano troppo, ma tu che cosa vuoi da me? E detto ciò, seguirà a questo video, cos'è imparate, e non mi avete visto per un po', e poi patapim patapum vi rompo le scatole come Dio comanda, seguirà un video su quei 4-5 crono che mi hanno particolarmente colpito, o che speravo mi colpissero, io andavo, gli facevo le pernacchie, dico adesso mi tirano un crono e mi colpiscono, e invece no. E appunto al Watch & Wonder. Dopo tutte queste chiacchiere inutili, incominciamo con il primo orologio. Sì, avvicinano le Olimpiadi di Parigi 2024, eh sì, perché siamo nel 2024, non è come le altre Olimpiadi che, siccome c'era il Covid, le Olimpiadi del 2020 le hanno fatte nel 2021, eccetera, eccetera. Per cui Olimpiadi quelle estive le chiamano, non sono quelle invernali, ci siamo capiti. Come sempre Omega, Omega o Omega, che è il servizio di cronometraggio ufficiale dei 33esimi giochi olimpici di Parigi, fa un orologio ufficiale, in questo caso è uno Spin Master, e ha presentato appunto lo Spin Master Cronoscope Parigi 2024, edizione speciale. Ah 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 ah! È dal 32 che la Omega fa il cronometraggio ufficiale delle Olimpiadi, così tanto per rimanere in tema. Ci sono due versioni, una giustamente in acciaio, inox, stainless steel, con gli indicatori in alluminio lodizzato, e invece la versione a 18 caratteri, Moonshine Gold, per cui questa sensazione lunare d'oro, con la cassa in oro e buonanotte ai suonatori. c'è la possibilità di avere il bracciale, come sempre, nello stesso materiale della cassa, oppure di avere il cinturino in pelle. È un 43 mm di diametri, non ha particolari esigenze, come già gli altri Spin Master, di profondità, di resistenza all'acqua, è un 5 bar, 5 bar, se uno si beve un ciclietto in ogni bar, fa in tempo a arrivare a casa ubriaco, come un'oca. È molto interessante il quadrante, che appunto, così, con un'ispirazione anni 30, ha queste varie gradazioni, di diverse indicazioni, per cui, con la possibilità di andare a cacciare fuori quelli che sono, appunto, se non sbaglio, fatemi vedere bene qui com'è la questione, però, il discorso della misurazione della lontananza, come cavolo si chiama quando uno piglia la misura in funzione del tempo che ci mette per tornare, va bene, insomma, ha diversi gradienti, ha diversi indicatori. Cosa sto dicendo? Non lo so, assolutamente. Ha poi, chiaramente, la sua bella indicazione tachimetrica, tachimetrica, con questa benvenuta, l'ho saputa dire, come è normale nello Spin Master, come è normale in tanti cronometri, tra cui il famoso e assai blasonato Rolexone, va bene. Cosa vi dico? È certificato dall'Istituto Svissero Federale di Metrologia, il METAS, METAS, e è garanzito alla 15.000 Gauss di resistenza elettromagnetica. Cosa vi devo raccontare ancora? 50 metri, ve l'ho detto, se non sbaglio, 42, 43, quanto cavolo è? Adesso lo cerco, perché c'è una mia bella documentazione, sembra che su tutta memoria, 43 mm la cassa, 18 carati, l'abbiamo detto, costa 2 lire, nel senso che, si parte da 10.600, belli eurini, se volete, la versione in acciaio, con il suo bel bracciaio, de pelle, insomma, è una ricorrenza, tirate fuori questi 10.000 euro, cosa vi costa? restiamo nei cronografi, restiamo nei cronografi, restiamo nei cronografi, restiamo in Svizzera, Tagoyer Carrera Chronograph, Glass Box, Panda, referenza, C, B, S, 22, 1, 6, quante ne so, è lanciato lo scorso anno, il Carrera Chronograph, Glass Box, da Tagoyer, viene ora, così, è stato presentato, appunto, a metà aprile, in quel di Ginevra, nella nuova versione, appunto, ispirata al Carrera, della fine degli anni 60, tanto per capirci, do dei numeri completamente a caso, la referenza, 7753 SN, per cui, con il quadrante argento, con gli indicatori neri, insomma, gli indicatori, quelli, chiamiamoli, i sub deals, per capirci, che sembrano, appunto, gli occhi del panda, gli occhi del panda, va bene, è, non è un patacoon, da 55 mm, ma è un 39x1386, di altezza, in acciaio, inox, cristallo, zaffero, e, appunto, esalite, cristallo, trattamento, antiriflesso, e, appunto, richiama, questo modello, del, della fine, degli anni 60, in una linea, appunto, che invece, Carriera, per quanto, la linea Carriera, appunto, è stata, poi sviluppata, e lanciata, e sparata, eccetera, eccetera, negli anni 70. Cosa cavolo, vi devo raccontare, è un 10 bar, per cui, ci siubriaca, molto più, di quello di prima, bellino, classico, con, l'indicatore, della data, a ore 6, e, utilizza, il suo bel, calibro, Tag Oyer, in house, calibro, cronografico, Oyer 02, che, per capirci, fa, 28.800, vibrazioni, in ogni ora, cioè, non sta fermo, un attimo, stella, e, orologeno simpatico, scendiamo di prezzo, rispetto a quello di prima, rispetto all'Omega, di prima, siamo, intorno, anzi no, siamo a 6.500 franchi, di, che oramai, come dire, 6.500 euro, di prezzo, di listino, interessante, ovviamente. Dunque, come ben sapete, non lo sapevate, eh, adesso lo sapete, Tudor, ha lanciato, non è più una, mega novità, comunque, da un po' che lì, ma io non ve ne ho mai parlato, o almeno, credo, può darsi, ha presentato il Black Bay 58 GMT, parliamoci chiaro, sempre più Tudor sta ripercorrendo i modelli e il look dei Rolex, e l'idea è un po', guarda che, se non riesci a comprarti Rolex, per motivi di più soldi, o per lunghe liste d'attesa, e non vuoi pagarli il doppio, guarda che ci sono sempre i Tudor, e, rispetto, così, all'impostazione originale, degli anni che furono, quando Tudor doveva essere un pochino, la marca più abbordabile e più del popolo, chiamiamola così, i signori della Tudor e i signori della Rolex, evidentemente, come ben sapete, sono la stessa roba, stanno, appunto, abbastanza affiancando le linee, comunque, hanno fatto questo simpaticissimo GMT, rosso e blu, dico bene, ma ci sono le due versioni, c'è la versione, rosso e nera, per cui, ma stiamo dicendo, c'è la versione con l'ormai classico cinturino, in gommazza, in puro stile Rolex, oppure la sua bella, il suo bel cinturino, con il, il suo bel bracciale, in acciaio, stiamo dicendo, è una cosa che costa relativamente poco, parliamoci, capiamoci, il prezzo di questo GMT Tudor, è 4710 euro, con il bracciale, in acciaio, mentre è di 449,50, con il, il suo bel, patatim, patapum, patapam, de plastica, ok, de gomma, di gomma, esso è di gomma, va bene, e, cosa vi dico, sapete già tutto, siete troppo in gamba, non avete sicuramente bisogno di me, va bene, ha una, waterproof, una resistenza a 200 metri, ricorda un modello degli anni 50, questo è in 39 mm, che era in 39 mm, questo invece, facciamolo un pochino più largo, è in 41 mm, che essendo GMT c'è la sua bella, come si chiama, la sua bella, oh mamma mia, come sono messo, la sua bella scala rotante, la sua bella ghiera rotante, delle 24 ore, 200 metri, l'abbiamo già detto, anche lui è bello bello COSC, sapete che COSC sono laboratori di certificazione, che stanno inside, dentro, dentro, alla Rolex, ce l'hanno lì, è comodo, non devono spendere soldi del gasolio, per andare con la Euro 2, perché questa si possono permettere, a portarlo a fare la certificazione, 65 ore di riserva di calibro, di calibro, buonanotte, di carica, il calibro invece, si chiama MT54, 50U, come UGO, ok, con la sua bella funzione, GMT, il movimento è prodotto, nella appunto, fabbrica di produzione, dei movimenti Tudor, che ne si, che ne si, che ne so, ho detto una discreta scemenza, perché non è COSC, ma è METAS, anche lui, per cui, insomma, Master Chronometer Certification, METAS, però, il, ok, è comunque poi, verificato, e controverificato, per un controllo, che va da, da 0 a più 5 secondi, al giorno, appunto, da COSC, per cui ci siamo, quante ne so, quante ne so, resistenza magnetica, 15000 Gauss, cosa volete sapere ancora? Niente di più, ah, vabbè, dai, che ci siamo, ve lo racconto, per avere la certificazione COSC, di cui parlavo, più o meno, in modo corretto, bisogna essere, Swiss Manufacturing, ok, per cui, conformi alle norme Swiss Made, che significa che, se non ricordo male, il 60% del valore dell'orologio, non del costo dei pezzi, del valore, per cui c'è dentro design, c'è dentro progettazione, insomma, il discorso un pochettino più ampio, comunque, deve essere Swiss Made, e il movimento, appunto, deve essere certificato, COSC, per avere, la certificazione, Master Chronometer, di cui, abbiamo parlato prima, insomma, ho fatto un casino della miseria, immagino che, a questo punto, anche voi vi siete incasinato, ma sapete che, programma, questo, periodico, è assolutamente inutile, serve per vedere, un po' di orologi, se vi piacciono, ve li andate a guardare, e ve li studiate, con più calma, e, finestra, con l'indicazione della data, ve lo sparo lì, a ore 3, carino, sapete che, non sono così, un grandissimo fan, dei rollers, tant'è che non, soltanto 7,8, volete non averne, 7,8, è il minimo indispensabile, se non vi piacciono, ci credete, va bene, ok, e, comunque, lo ammetto, questo presentato, al, Watch and Wonders, di, Ginevra, appunto, cioè, il New Perpetual, 1908, modello, 950 Platinum, con il, con il quadrante, con la mitica, mitica, insomma, con la, lavorazione, cosiddetta, guilloche, 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 che ne so, e, tanta roba, mi piace, mi piace, lo ammetto, mi piace, però, mi piace, un, 1908, è la, la nuova linea, degli orologi eleganti, Rolex, che ha soppiantato, e secondo me, si è evoluta, secondo me, sono più carini, in generale, della linea precedente, cioè, il Cellini, e, l'ho già detto, che mi piace, esatto, è un, 39 mm, di diametro, per, 950 di altezza, carino, il livello, di lavorazioni, e di finiture, è veramente notevole, non è un orologio elegante, non ha bisogno di andare sott'acqua, e, resistere, ha delle pressioni esagerate, è un 5 bar, l'abbiamo già detto, versione Ice Blue, eh, con, appunto, mh, la varazione, Ghiosce, eh, chicchi di riso, eh, che, è, una novità, per gli amici, della Rolex, eh, con i piccoli secondi, a ore 6, insomma, un orologio, mi sento di dire, molto elegante, eh, numeri, arabi, sul 3, sul 9, sul 12, a 6, c'è già, i piccoli secondi, come fanno, rifilarci anche il numero, diventava un casino, e, calibro 71, 40, eh, automatico, eh, chiaramente, di produzione Rolex, eh, con la, la, sua bella, mh, spirale, Air Spring, Siloxi, che, appunto, è la spirale, in silicone, eh, brevetta Rolex, e qui, stiamo a parlare, quanto volete, eh, di silicone, eh, e degli effetti, che può avere, in certe situazioni, e, ha un altro brevetto a Rolex, che, appunto, che l'oscillatore, è montato, sul, eh, su un sistema, di assorbimento, anti-shock, ad alte performance, eh, cosiddetto, paraflex, paraflex, eh, va bene, eh, eh, l'oscillatore, la massa rotante, per capirci, è, ha, eh, in oro, eh, 18 carati, e vuoi non avere la massa, eh, oscillante, a 18 carati, eh, se no, ti sei un barbun, come si dice a Milano, e, frequenza, eh, 4 Hz, 28.800 vibrazioni, ora, il calibro 71,40, ha le sue belle 66 ore, di riserva di carico, eh, di carica, più di che di carico, ha il suo bel, cinturino, con anche lui, la sua bella clipsa, automatica, di blocco, eh, in pelle, pelle di che roba, di cucutrillo, di cucutrillo, di bestia assassina, calf skin, calf skin, vabbè, insomma, eh, ok, con la clipettina di chiesura, in platino, ah, massa oscillante d'oro, clips di platino, insomma, le solite cose, eh, c'ha il suo bel, la sua bella certificazione, COSC, anche lui, e buonanotte ai suonatori, mh, allora, parliamo che ci capiamo, il prezzo, è fissato, eh, in, trentunmila e settecento euro, ok, non so come stanno messi con le consegne, eh, non ho ancora avuto tempo di ordinarlo, per cui, eh, non vi saprei dire, niente di più, adesso, a parte farlo scemo, devo dire che questo mi piace, eh, mi piace, mi piace, ho capito, non volete tirar fuori tutti questi soldi, ma, ma io non vi capisco, ragazzi, godetevelo la vita, spendeteli sti soldi, cosa ve li tenete lì a fare, vabbè, dai, allora, vi prometto che vi dico qualcosa di, così, un orologio, da poco, si fa per dire, perché, ci vogliono 1925 euro, per comprarsi, questo, Nomos Glashutte Tangente 38 Data, che è stato fatto, così, in qualche modo, per festeggiare i 175 anni, della manufattura, Glashutte, ah, ah, e cosa hanno fatto di bello, e che cosa sono andati a presentare, tomo, tomo, cacchio, cacchio, i nostri eroi tedeschi, a Watch and Wonder, appunto, di Genève, tutto uno spatascio di nuovi colori, ben 31 colori differenti di questo classico orologio, ma, ognuno di questi 31 colori, è in edizione limitata, di 175, che numero è? Che numero è? 175, l'abbiamo detto prima, 175 anni, di questa, simpatica, manifattura, no, Glashutte tanta roba, eh, no, non si lasciutte, comunque, cosa vi sto a raccontare, va bene, 38 mm, cassa in acciaio, cristallo, sia sul, sul vetro anteriore, che su quello posteriore, carica automatica, appunto, 3 bar, 3 bar proprio, stiamo lì, 38 mm, ve l'ho detto, ha il suo bel calibro, Nomos, Duv, DUV, per capirci, 41,01, che si può vedere, guardandogli il di dietro, nel senso che ci siamo capiti, riserva di carica, 42 ore, il prezzo, ve l'ho detto, basta, con il suo bel cinturino, che mi danno, per particolarmente confortevole, questo ce lo dicono loro, di produzione francese, e di larghezza, di 19 mm, e di solito, quando andate a comprare il cinturino, li trovate 18, 20, 22, 19, così impari, alla faccia dello standard, carino, 2000 euro di orologio, insomma, che dite? che dite? che dite? che dite? bene, potevamo assolutamente, piantarla qui, ma no, figuriamoci, perché, insomma, vi devo parlare, di questa ulteriore presentazione, del Watch and Wonder, è passato quasi un mese, per cui ormai, l'abbiamo, come si dice, sedimentata, di Cartier, Cartier, che ha presentato, tra le altre cose, un cronografo, bellissimo, e ripeto, a breve, in breve, poi ne parliamo, farò questo video, sui cronografi, di Watch and Wonders, Watch and Wonders, ok, ha presentato, tra le diverse novità, appunto, un Santos du Monde, Rewind, Rewind, non rewind, che non si dice, ok, e, vi do un po' di caratteristiche, è un orologio di forma, 31,5 x 43,5, gli amici di Cartier, amano gli orologi di forma, i più storici, sono praticamente tutti, appunto, quadrati o rettangolari, e, il richiamo di un famosissimo modello, il Cartier Santos, ok, è, Platino 950, spessore 7,3 mm, con, una, corona, con, piazzati dentro, dei cabochon, e va bene, produzione limitata, di, 200 pezzi, il calibro, è, un 230 mc, base, 430 mc, e, carica manuale, che cosa c'ha di particolare, questo orologio, che puoi, puoi piacere, o non puoi acere, e, gira al contrario, gira al contrario, e, per cui, anziché, andare in senso, orario, orologio, senso orario, e, va in senso, anti-orario, e, bellissimo, il che significa, che tanto per fare un esempio, alle 10 e 10, e non le 50, cioè, alle 10 e 10, e non le 50, se ne sentivo la mancanza, boh, non lo so, guardate le immagini, e vedete appunto, e siccome l'orologio, di solito si guarda così, con un battito di ciglia, chissà le volte, che uno dice, oh mamma mia, ma che ore sono, e, oddio, alle 11 e 5, fra le 11 e 5, cioè no, fra l'1 e meno 5, che però, insomma, vabbè, è un casino, però, qual è il ragionamento, siccome, per comprarlo, gli mettete lì, 37 mila, franchi svizzeri, che sono, come dire, 37 mila euro, e vi do anche, la referenza, così, se lo volete ordinare, vi ricordo di darvi una mossa, perché è in numero limitato, crvgsa0089, ok, sappiate che lui, c'ha il suo bel, cinturino, di cucutrillo, anzi, per la precisione, di alligator, di alligator, e, vabbè, che vi devo dire, adesso dico a mio nipotino, di due anni, se mi progetta, il prossimo orologio, che presenterò, agli amici, di Cartier, Cartier, vi saluto, fatti bravi, trovatevi un lavoro di giorno, ci vediamo, relativamente presto, ciao! Grazie a tutti!